Macabro rinvenimento a Savani intorno alle ore 6 sotto al belvedere Maremonti di San Vito Chietino. Il cadavere di un giovane, probabilmente di nazionalità straniera, è stato rinvenuto nel centro di San Vito Chietino. Il giovane, di età apparente fra i 30 e i 40 anni, non aveva con sé i documenti. Sul posto è intervenuto anche il medico legale a segnalare la presenza del corpo ormai privo di vita. È stato un passante. Il giovane è stato rinvenuto in via Matteotti, al di là dell'inferiata della terrazza panoramica, tre cespugli. Tra l'erba anche qualche macchia di sangue. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortone di San Vito Chietino, coordinati dal maggiore Roberto Ragucci, presenti anche gli uomini della scientifica. Vicino al cadavere è stato recuperato uno zainetto scuro. L'intera area è stata delimitata per consentire i rilievi. Presente sul posto anche il magistrato di turno.